Non ho sbagliato niente, sono andato via a Trico senza spingere più di tanto perché ho visto che le moto veramente soffrono, è tutto fuori pista e ho detto vabbè dai prendo questo ritmo, poi lo sapevo che in moto non sono andato attivamente e prenderò quel ritmo giorno dopo giorno, però sono contento perché è fisicamente stupendo